beh io ho cominciato Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? Giuseppe non è che vuoi filmare tu con questa? dove i ragazzi sono più forti, i frutti non si chiamano pure, così dolce lei. Grazie a tutti.